La maggioranza dice che è molto importante questa norma, è il ruolo del trabocco che va salvaguardato, ma poi per due volte su due non si presenta compatta durante i lavori della Commissione e pertanto è soltanto grazie alle opposizioni, in particolar modo al Partito Democratico, che la legge può essere finalmente licenziata e può andare al prossimo Consiglio regionale del 4 di giugno. Noi manteniamo alcune riserve, lo abbiamo migliorato anche grazie agli emendamenti condivisi con le altre forze della opposizione, ma abbiamo un atteggiamento critico per una serie di motivi. Il primo, temiamo che questa norma non risolva gli aspetti autorizzatori per quanto riguarda ovviamente le concessioni sui trabocchi. Il secondo, non vi è stata una profonda concertazione, abbiamo avuto posizioni dei comuni diversi, mentre la maggioranza se avesse audito l'Anci e i comuni in modo opportuno probabilmente avrebbe potuto costruire una posizione condivisa con i comuni. In terzo luogo, noi riteniamo che serva una legge organica. Abbiamo ormai quattro leggi, è diventata una vera e propria giungla, questa è una maggioranza lenta che rallenta l'Abruzzo e anche su questo tema, è la prima vera legge che va in Consiglio regionale di merito, ha avuto bisogno di fatto della presenza dell'opposizione del Partito Democratico per poter garantire l'approvazione di un'importante legge come questa.